L'evento che abbiamo voluto per onorare, per commemorare la giornata contro la violenza sulle donne è un silent reading party, cioè un momento in cui in modo del tutto informale ci si riunisce per leggere un libro. Ognuno si porta un libro e legge silenziosamente in compagnia degli altri. Abbiamo voluto lanciare un messaggio con questa manifestazione, un messaggio basato sul silenzio e sulla parola. Il silenzio che in qualche modo è simbolico del silenzio in cui molte volte si compiono le violenze domestiche sulle donne, fino ad arrivare al massimo della violenza che è il femminicidio. Il silenzio in cui viene relegata la donna che per sottitanza psicologica, per timore, per un tabù familiare non riesce a trovare il coraggio per uscire da questo guscio. Il silenzio in cui si richiude magari anche la famiglia, gli amici che sono attorno. Però poi abbiamo voluto vedere anche il silenzio sotto un altro aspetto, che è quello della condivisione, il trovarsi uniti in un modo molto intimo, in un modo molto rispettoso, per portare avanti un messaggio, che è un messaggio appunto di rifiuto di qualsiasi forma di violenza, che ha un escalation, perché si va dal femminicidio fino alla violenza quotidiana, nei comportamenti che vedono la donna sempre più relegata a una funzione di oggetto. Noi usiamo le parole per modificare i pensieri e i comportamenti e per mettere in atto dei pensieri positivi e dei comportamenti rispettosi e amorevoli.